La Troica torna ad Atene. Dopo l'interruzione dei negoziati a marzo ripartono le trattative sull'attuazione del programma economico ellenico. La Grecia punta a ottenere lo sblocco di 2,8 miliardi di euro già entro la fine di aprile, ma pesano ancora alcune condizioni. Tra tutte la messa in mobilità di 25.000 dipendenti pubblici, i primi dei 150.000 previsti dagli accordi con la Troica. Non voglio illudervi dicendo che l'emergenza è finita. L'obiettivo è far sì che il 2013 sia l'ultimo anno di recessione. Le parole di Samaras si scontrano con le previsioni economiche per il 2013 che danno il PIL in contrazione del 4,5%. Ad Atene intanto il mondo politico si divide anche sul prolungamento della tassa d'emergenza sulla proprietà. Per i socialisti è necessaria una revisione totale dell'imposta.